ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come amici un personaggio del corpo docenti dovrà abbandonare il suo incarico profonda tristezza per tutto il cast amici è un talent show italiano che va in onda dal 2001 su canale 5 si tratta di uno dei programmi più longevi della televisione nazionale ed è condotto dall'amatissima maria de filippi i telespettatori restano incollati al piccolo schermo per osservare il miglioramento artistico degli studenti di canto e ballo il talent è composto principalmente da due fasi in primis c'è la fase iniziale in cui gli studenti ammessi iniziano il loro percorso di studi cercando di perfezionare tecnica presenza scenica e tutto ciò che concorre a realizzare una buona performance nella fascia serale i partecipanti concorrono con sfide alla vittoria del premio finale il focus del programma è certamente l'arte ed è il motivo per il quale il grande pubblico è fidelizzato a questa trasmissione oltre alle performance si tratta anche di uno spettacolo per tale ragione si creano dinamiche e vicende che appassionano l'audience i giovani partecipanti vengono seguiti da alcuni docenti che li motivano ed incoraggiano a migliorarsi per raggiungere alti livelli di preparazione tra i professori ci sono quelli di canto e ricordiamo rudy zerbi anna pettinelli e lorella cuccarini per il ballo invece troviamo alessandra celentano raimondo todaro ed emanuel lo amici la nota professoressa rinuncia all'incarico amici è un talent show di grandissimo successo che da oltre 20 anni intrattiene e fa divertire il pubblico italiano in questa nuova edizione ci sono state delle novità importanti e la professoressa di canto arisa è stata sostituita da anna pettinelli gli altri docenti sono stati confermati come ogni edizione tuttavia la sostituzione dell'amatissima arisa non è l'unica news di questa edizione del talent secondo alcune indiscrezioni un docente sta per abbandonare il suo ruolo provocando un enorme tristezza in tutti i suoi fan vediamo insieme di chi si tratta amici di maria de filippi è un talent in cui diversi giovani concorrenti competono per aggiudicarsi la vittoria finale ed eventuali contratti professionali i professori seguono i ragazzi nel loro percorso formativo e trionfano per i loro successi tuttavia una celebre professoressa molto amata dal grande pubblico ha dovuto prendere la drastica decisione di abbandonare il talent show stiamo parlando proprio di lorella cuccarini che in passato aveva già ricevuto altre offerte professionali da rai ma ha deciso di proseguire il suo cammino ad amici però a marzo 2024 sarà costretta ad allontanarsi dal programma per condurre il festival di san remo al fianco di amadeus fortunatamente non si tratta di un addio definitivo ma terminata la kermesse lorella tornerà nel corpo docenti di amici ma non si tratta di un'ottima Grazie a tutti.